La Commissione europea, il presidente della BCE Mario Draghi, il presidente del Consiglio Mario Monti, il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco si allineano al primo ministro spagnolo Mariano Rajoy nel chiedere l'aiuto diretto della zona euro per le banche in difficoltà e un piano che conduca all'emissione di obbligazioni comuni. Di questo parlo con Maurizio Piglia, direttore di investimenti della Banca Savings and Investments in collegamento internet da Auckland, Nuova Zelanda. Ciao Maurizio, bentornato. Buongiorno a voi. Monti, Draghi, il governatore Ignazio Visco che è anche membro della Banca Centrale Europea fanno pressione sulla Germania affinché sostenga la proposta della Commissione europea già lanciata precedentemente dallo spagnolo Rajoy di permettere al meccanismo europeo di stabilità di aiutare direttamente le banche in difficoltà invece di incanalare i soldi attraverso i governi. Con le parole di Draghi si stanno cercando modi che permettano l'uso del meccanismo europeo di stabilità per ricapitalizzare le banche. Il problema, dice Draghi, non è tanto l'uso dei soldi dell'ESM per la ricapitalizzazione delle banche ma se questa operazione può essere fatta direttamente senza passare dai governi. Cioè la banda Bassotti sta cercando di mettere le mani sul deposito di Zio Paperoni, l'unico che i soldi ce li ha, cioè il meccanismo di stabilità finanziato in gran parte dalla Germania. Allora, ci sono parecchie cose di cui si può discutere. Allora, innanzitutto perché mai un meccanismo paragovernativo finanziato dagli Stati, quindi dai soldi dei contribuenti europei, debba ricapitalizzare banche che sono soggetti privati? Così a prima vista le banche le dovrebbero ricapitalizzare i loro azionisti, che sono quelli che i soldi li hanno persi prima di tutto, oppure farle fallire, far arrivare nuovi azionisti, garantendo i depositanti, eccetera, eccetera, eccetera. Così invece cosa facciamo? Arriva qualcuno che ricapitalizza le banche. Forse quel che non si è capito bene è che il fondo ESM, neanche se avesse quattro volte tanto i soldi che ha, riuscirebbe a ricapitalizzare il sistema bancario europeo, il quale è clamorosamente insolvente. Il conto l'abbiamo fatto parecchie volte qui, le banche sono leveraggiate mediamente 26 volte, mediamente perché qualcuna è leveraggiata 30, per esempio le due grandi spagnole, Bilbao Vizcaia e Santander, sono leveraggiate sulle 30 volte circa. Per cui il 4% di perdite sugli asset sarebbe sufficiente a spazzare via il capitale, siccome gli asset che hanno in pancia valgono tra il 15 e il 30% in meno, così largo circa, specialmente quelle spagnole che sono farcite di mutui fin qui, di case che non hanno nessun mercato, perché ci sono interi villaggi vuoti sulla costa spagnola, che si aspettavano le orde di inglesi che andassero in pensione sulla costa spagnola, invece interi villaggi costruiti nuovi, vuoti. I soldi dell'ESM forse non bastano nemmeno a ricapitalizzare il sistema bancario spagnolo, nemmeno quello, figuriamoci poi dover intervenire, ovviamente con una certa equità, in tutte le banche d'Europa. Tenendo presente che mi pare che il 17,9% del fondo di stabilità lo deve pagare l'Italia, e ce lo deve mettere l'Italia. Il fondo European Stability Mechanism, in inglese appunto ESM, in italiano Meccanismo Europeo di Stabilità, racchiuderà i due fondi precedenti, che erano appunto l'EFSF, l'European Financial Stability Facility, e l'European Financial Stability Mechanism. Quelli erano provvisori, l'ESM diventa il fondo definitivo e dovrebbe entrare in azione da metà luglio. Questo fondo tiene i soldi dei vari membri della zona euro che contribuiscono a seconda della partecipazione all'interno della Banca Centrale Europea. Dunque prima la Germania, a seconda la Francia, a seconda la terza l'Italia, quarta la Spagna e così via, tutti i paesi della zona euro in grandezza di economia o comunque più direttamente appunto della loro partecipazione dentro la Banca Centrale Europea. Il problema che si pongono adesso in Europa è se questi soldi devono essere dati come suggerisce lo statuto del fondo ai vari governi e poi i governi li possono usare anche per ricapitalizzare le banche o se, appunto come chiedono questa lista di persone e la Commissione Europea sta considerando, se darli direttamente invece agli istituti bancari. C'è una differenza tra queste due cose. Se si danno ai governi questo finisce per pesare sul debito pubblico dei governi e il governo stesso finisce anche per perdere un po' di sovranità nazionale perché poi appunto dovrà essere controllato da chi questi soldi glieli dà, una sorta di quello che è accaduto appunto in Grecia e in Irlanda. Ma dandoli direttamente alle banche invece si arraggirebbe questo problema ma però la Germania e gli altri paesi non sono d'accordo perché appunto il paese stesso sfuggirebbe alle richieste poi di maggiore austerità che sono implicite nella concessione dei prestiti di questo fondo. Espero di essere stato abbastanza chiaro. Certo, è il punto in cui Rahoi che è uno furbo ha capito che sta cercando di sgattaiolare e di uscire da quello che hanno già fatto a Grecia e Irlanda che hanno dovuto garantire le loro banche con i debiti dello Stato e allora siccome è uno furbo sta cercando di non pagare il dazio e naturalmente chi ci si è allineato subito dopo guarda caso ci sono subito dietro in coda ci sono Monti e Visco immediatamente perché quelli dietro nella coda siamo noi. Allora, con che criterio poi si va a dire a irlandesi e greci oh, a voi vi è andata male a noi ci è andata meglio non esiste non è assolutamente nemmeno pensabile che i tedeschi acconsentano a una cosa di questo genere a meno che retroattivamente non si voglia cambiare tutto quello che è stato inflitto a Grecia e a Irlanda. Secondo la Commissione Europea la ricapitalizzazione diretta da parte del fondo taglierebbe i legami tra le banche e il debito sovrano secondo Monti è uno strumento per limitare il contagio. e in realtà è l'ennesima porcata contabile perché da dove vengono i soldi ripeto chi fornisce i soldi a questo fondo sempre il contribuente ma a questo punto che cosa si fa? Lo si spalma non solo dai contribuenti di stati non virtuosi lo si spalma anche sui contribuenti tedeschi ma voi scherzate ripeto francesi e tedeschi che alla fine si dovranno sobbarcare continuamente ricapitalizzare questo fondo perché ho detto ci vorrà 4 volte se non 5 volte se non di più quello che c'è dentro a questo fondo continui ricapitalizzazioni attingendo alle tasse di chi disastri almeno crede di non averne combinati fino ad ora perché poi alla fine verrà il turno adesso siamo noi sono gli spagnoli a cercare di non pagare il dazio poi subito ci siamo anche noi ma prima o poi arriva il turno delle banche tedesche il sistema bancario europeo è insolvente fallito ma insolvente di brutto non insolvente per qualche soldo insolvente per numerose volte la capitalizzazione il presidente della commissione della banca centrale europea Mario Draghi dice a una commissione del Parlamento europeo a Bruxelles che senza una azione più aggressiva da parte dei politici l'euro sta mostrando di non essere sostenibile a meno che appunto ulteriori passi siano intrapresi mentre la posizione dei paesi cosiddetti creditori che comprende Germania e Finlandia insistono sul fatto che loro devono essere consultati prima che questo fondo sia usato Draghi dice che c'è il rischio di avere una barca di soldi che nessuno può toccare l'Europa è un costrutto artificiale che non ha alcun significato in particolare perché è partita dalla moneta dall'euro è chiaro che l'euro sta mostrando la sua insostenibilità è l'unico l'ultimo a cui non era chiaro era proprio Draghi forse perché è arrivato da poco lì perché secondo me al suo predecessore era chiaro già da tempo che l'euro era insostenibile e comunque si continua ad inforniarsi in questo tipo di strada fino a che alla fine ma vi dico tranquillamente quale sarà il finale se il finale non è che esce la Spagna il finale diventa che esce la Germania da questo tipo di costruzione e si porta dietro la sua moneta o si tiene l'euro e lascia la pattumiera a chi non è stato capace di controllare e di soprattutto di controllare il proprio livello di spesa assoluto siamo sempre alle solite ma che cosa ti aspetti ripeto guadagni 1000 euro di stipendio e ne spendi 1500 ma prima o poi cosa ti aspetti che succeda e perché dovresti sfuggire alle conseguenze di aver speso 1500 euro al mese quando ne hai guadagnati 1000 perché mai in base a che cosa devi sfuggire alle conseguenze perché sei diventato un debitore così grosso che hai messo in pericolo il creditore perché licenziano o chiudono lo sportello della filiale della banca di quartiere dove hai preso i soldi per 20 anni 30 anni chiaramente il direttore della banca di quartiere va licenziato a pedate la banca di quartiere va ricapitalizzata ci penseranno i suoi azionisti a ricapitalizzarla se sono in grado se invece sei riuscito a far fallire la banca è fallita siamo alle solite siamo qui a parlarci di un mondo che i banchieri e i politici hanno reso fantasy land non è il mondo reale il mondo reale non funziona come dicono loro il mondo reale alla fine ha il vizio di riaffermarsi sulle fantasie perché tutto quello che stiamo sentendo adesso le commissioni europee e Rahoy fantasy land il problema delle banche spagnole appare molto più grave di quello delle banche italiane il problema a livello delle cosiddette CAIAS il corrispondente delle casse di risparmio italiane gli azionisti delle CAIAS sono politici politici locali che appunto hanno una presa sul sistema bancario spagnolo probabilmente ancora più evidente di quella che in Italia i politici hanno sul sistema bancario italiano con le fondazioni le CAIAS non sono operative fondamentalmente sono ingessate al momento la maggioranza di loro l'esempio più lampante è quello del gruppo Banchia che è una ex CAIAS poi appunto è diventata gruppo Banchia che adesso pare abbia bisogno di 19 miliardi di euro di ricapitalizzazione che il governo non ha dunque tutte queste supposizioni si fanno per cercare di salvare il sistema bancario spagnolo e con esso anche i risparmi degli spagnoli la Butad è di ieri o dell'altro ieri la Butad ah c'è da ricapitalizzare Banchia e invece di ricapitalizzarla con i soldi la ricapitalizziamo col debito pubblico cioè ricapitalizzare col debito fantasy land alla grande proprio Maurizio si sta riferendo a quanto detto dal primo ministro spagnolo Mariano Rajoy alcuni giorni fa che pensava di poter ricapitalizzare appunto il gruppo Banchia dandogli del debito pubblico di modo che il gruppo potesse usare questo debito per prendere soldi dalla Banca Centrale Europea e in qualche modo cercare di scrollarsi di dosso all'onere della ricapitalizzazione della banca e passarlo sulla Banca Centrale Europea questa è poi stata una cosa che non è stata presa in considerazione insomma lo stesso Rajoy poi non ha assistito sull'argomento mentre il focus si è spostato sul usiamo l'ESM per ricapitalizzare direttamente le banche perché lo Stato spagnolo non ha bisogno di aiuto europeo ma le banche della Spagna si ha fatto questa divisione piuttosto improbabile il primo ministro spagnolo certo che Rajoy ha fatto un passo indietro quando ha detto la ricapitalizzo col debito la risata che si è sentita per tutta Europa è stata omerica così come la chiusura del meno 2 40% che ha fatto la borsa spagnola il giorno in cui ha detto questa cosa oltre ad aver fatto ridere non solo l'Europa ma il pianeta intero io sono rimasto per tre minuti senza parole a leggere il titolo dire come sarebbe a dire ricapitalizzare la banca col debito adesso no allora facciamo arrivare perché non è lo Stato spagnolo che ha bisogno sono le banche spagnole e dall'Europa dovrebbe risuonare la risposta e beh chi se ne frega le banche sono spagnole mica sono tue mica sono del contribuente europeo quantomeno potrebbero essere del contribuente spagnolo così come le banche greche sono state del contribuente greco e le banche irlandesi sono state del contribuente irlandese lo vai a spiegare tu agli irlandesi ai greci con voi abbiamo scherzato adesso a questi li ricapitalizziamo noi così non devono indebitare lo Stato e austerità forse non se ne parla ma ripeto per quanto tempo per quanto tempo pensi ti possa essere consentito di guadagnare mille e spendere mille e cinquecento per quanto tempo usque tandem diceva Cicerone la Commissione europea assiconda anche l'altra idea quella di lavorare alla emissione comune di obbligazione ancora una volta ai famosi euro bond ai quali si oppongono i paesi del nord Europa l'euro bond è un'altra ennesima truffa un altro modo di spalmare il il disastro su chi per ora non c'è ancora finito è una è una è una farsa che deve finire è una farsa che deve finire gli euro bond non li accetteranno non accetteranno nemmeno di finanziare le banali SM il risultato di tutte queste pressioni di chi non ha saputo amministrare e chi non ha saputo governare i propri paesi sarà che chi fino adesso li ha saputi governare se ne andrà rinunciando anche ai vantaggi per carità era il progetto della Germania l'Europa conrad Adenauer il primo a parlare di Europa ma forse non aveva in mente un'Europa forse soltanto monetaria Adenauer aveva in mente un'Europa prima politica e poi monetaria ma soprattutto fiscalmente responsabile ora il disastro il punto di non ritorno è stato passato si è detto tante volte i politici con il consenso degli elettori hanno spinto tutto oltre il punto di non ritorno punto di non ritorno ha un significato ben preciso significa che non c'è ritorno adesso torni però tornata all'immagine solamente per salutarti però e ringraziarti Maurizio Piglia direttore degli investimenti della banca Savings and Investments il mio collegamento interi da Auckland e Nuova Zelanda dunque grazie mille Maurizio a voi per averci seguito e arrivederci a voi per averci seguito a voi per averci seguito a voi per averci seguito Grazie a tutti